Radio Bruno Amici di Radio Bruno siamo a Copenhagen in vacanza verso i fiori norvegesi siamo con i nostri amici e alle nostre spalle quelle che vedete sono le due sirenette ma quella vera è là in fondo grande Radio Bruno Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie mille! Grazie mille! Al prossimo viaggio, ciao! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!